Ciao a tutti, noi della classe prima NT abbiamo portato come progetto la portanza e il funzionamento dell'ala di un aereo. Quando l'aria incontra l'ala passerà sia sopra che sotto, creando quindi una zona A e una zona B. Nella zona B l'aria ha le particelle meno vicine tra loro, così che si creerà una zona di bassa pressione, che risucchia l'ala verso l'alto. Mentre, nella zona A, le molecole sono più vicine tra loro, creando quindi una zona di alta pressione, che anche se spinge dal basso... L'effetto Coanda è la tendenza di un getto di un fluido a seguire il contorno di una superficie vicina. Chiaramente osservabile mettendo un semplice cucchiaio sotto un getto d'acqua, o un comune vasetto di vetro. Il fluido, o in questo caso oggetto d'aria, muovendosi lungo la superficie all'aria, provoca dell'atterismo. Quindi, dall'alta pressione si passa alla bassa pressione. Così facendo, l'ala, ma anche tutto l'aereo, viene spinto verso l'alto. C'è anche un altro effetto che influisce, ed è la velocità, con cui l'aereo vola e sbatte contro l'aria. Più l'aereo è veloce, più si crea quell'effetto di alta e bassa pressione, e più l'ala e tutto l'aereo viene risucchiato verso l'alto, riuscendo quindi a volare. Questo effetto possiamo notarlo osservando un aereo che decolla. Quando il pilota tirasse la glosce, l'ala si inflette verso l'alto per via di questa fortissima depressione che si forma sull'ala, consente all'aereo di volare. Consideriamo anche che i materiali dell'ala sono molto flessibili, altrimenti questo effetto non sarebbe così evidente. Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti